Facendo una distribuzione di unità, il senso che figlio trova chi un, due e non chi deve, e soprattutto ha avuto il tempo che la prima visione è stata a testa di filmenze a Milano l'ottobre dell'anno scorso, il novembre dell'anno scorso. Poi a finire ci sono scuole, i suoi sociali, ha questa vita qua. Dispiace non andare invece a andare a vita. Ho cercato, per esempio, di mostrare le scuole, sono state le scuole che erano in autogestione, facendo gli studenti e anche i professori, i quali poi singolarmente, magari, vedendo le loro realtà, sono delle scuole, delle scuole di vita. Vorrebbero anche, magari, ma poi è molto difficile. Potevo fare come sono stato molto più sguardo in maniera di servizio, ma non in realtà in generale ci sarebbero da dire un po' di cose. Beh, perché comunque esiste una sorta di più sfascismo, non c'è un dialogo, ma non si ricorda. Più più sfascismo, secondo me c'è proprio ignoranza, su quello... Cioè, la parola anarchica, che è già vero, si è vicino, si è vicino, si è vicino, si è vicino. Oro, eccetera. Lei che va a vivere in questa situazione è completamente arachina, cioè taos, rumore, baccarlo, dire disordine. Ecco, invece che siamo al riposto. Ho conosciuto proprio la parola anarchia, nel mercolese, significa mancanza di governo, assenza di governo. e quindi qualcosa che va oltre il potente, ma con la dimensione del determinismo, di un'attività. Siamo...